Si serve del suo nutrimento. Perché l'ape nella gerarchia evolutiva del mondo animale occupa un posto superiore rispetto alla formica? Commento Perché l'ape produce il miele per nutrirsi durante la cosiddetta cattiva stagione, come la formica, ma a differenza di questa, è utile all'uomo che si serve del suo nutrimento. Grazie a tutti.